Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, stiamo insieme fino alle 19.02, oggi abbiamo un menù particolarmente interessante, nell'ultima parte, cioè durante Studio Telequattro, anticiperemo i temi della settima edizione di Convivere con Auschwitz, questo convegno che è in programma la prossima settimana. Nella seconda parte sarà con noi il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Franco Però, nella prima parte è tornato a trovarci il dottor Giorgio Sarkletti, mi sono dimenticato anche adesso, non archeologo, come ho detto prima, ma ortopedico, che potrebbe essere un archeologo moderno, che potrebbe essere, o anche perché di solito l'archeologo trova delle ossa, e su quello si basa. Forse per questo anche, mi sono confuso, grazie per essere tornato, o intanto, chiariamo giusto un attimo, poi oggi affrontiamo due argomenti, però insomma, sapete che un po' da ipocondriaco, un po' da curioso, non posso esimermi da certe domande, ci sono in giro virus influenzali, non quello dell'influenza, ci sono virus parainfluenzali, che sono abbastanza forti. Quelli che se ne fregano delle vaccinazioni, le bypassano, perché hanno delle piccole modifiche nel loro genoma, e fa sì che quello che si è fatto come prevenzione possa essere meno utile. Meno dico perché in realtà poi, la forma parainfluenzale con la vaccinazione risulta meno aggressiva. Anche se vedo quadri che durano da diversi giorni, anzi settimane anche. Un po' fastidiosi. Fastidiosi, soprattutto per la tosse stizzosa. Quando poi uno va a letto e scalda i polmoni, la notte diventa terribile. Ma c'è un rimedio classico magari che si può prendere, tipo a parte il miele, io sono un po' refratario al miele, per dire la verità, un po' di difficoltà. Per togliere la tosse stizzosa, sono i sedativi della tosse, quindi la paracodina. Da non cedere però nell'uso della paracodina, perché impedendo il riflesso della tosse, rimangono le secrezioni a livello bronchiale e polmonare, e quindi favoriscono poi l'impianto di germi, perché sono come terreni di cultura. Però per passare qualche ora la notte, un po' di paracodina non fa male. Volevo chiedere anche questo, di recente ho notato, ma questo poi probabilmente dipende anche dallo studio che si sceglie e tutto, però mi sembra che rispetto a parecchi anni fa, dove già c'era una notevole velocizzazione, e io sono rimasto un pochettino stupito, perché proprio per una tosse piuttosto fastidiosa ho dovuto fare dei raggi, e sono rimasto stupito perché mi hanno detto guardi che la risposta gliela diamo tra mezz'ora. Io mi aspettavo comunque un giorno come minimo, cui ero abituato per altri problemi. Un torace si può valutare in 3 nanosecondi, dipende dalla disponibilità del medico, il radiologo guarda quello che il tecnico ha eseguito, e quindi in un attimo un'antera posteriore o una laterale si vede subito se c'è un focolario o se c'è un problema. Quindi poi sono i tempi di trascrizione, però oggi dato che non c'è sviluppo di lastre fotografiche, è tutto molto velocizzato e quindi su un dischetto immediatamente si può scrivere la risposta. Ok, allora, due sono gli argomenti di cui ci occupiamo, il primo è... La verità, ma non dal punto di vista filosofico, quanto dal punto di vista scientifico. Anzi, si potrebbe anche dire dal punto di vista filosofico, però non voglio fare una chiacchierata di filosofia, ma l'uomo è sempre stato portato alla ricerca della verità nelle cose. Esiste una verità assoluta, cioè una cosa condivisibile da tutti in cui nessuno può discutere e soprattutto una verità che può essere verificata personalmente. Quale potrebbe essere questa verità? Ce n'è una sola nel nostro mondo, ma anche in qualsiasi altro mondo, la matematica. Ah, uno più uno fa due, siamo sulla Terra, su Urano, su Alfa Centauri o nella galassia più lontana, uno più uno fa due, per tutti non si discute, non c'è fazione politica, non c'è destra, sinistra, non c'è una visione da un lato o dall'altro e soprattutto ognuno può verificarlo da solo. Mentre per qualsiasi altra teoria scientifica di cui noi dobbiamo avere fiducia, dobbiamo avere fede in quello che ci dicono gli esperti, la verifica non può essere personale, perché la verifica ha bisogno di strumentazioni tali che il singolo individuo non può farcela. Mi è venuto lo spunto di parlare di questo, perché c'è questa Francesca Baldi, che è un membro dell'Istituto Superiore di Sanità, che in una recente intervista ha parlato del messaggio scientifico. Cioè, mentre per una lingua esiste un traduttore, che sia un vocabolario, che sia un traduttore umano, oppure adesso quelli facili che si portano e che traducano al momento quello che si vuol dire, per il messaggio scientifico non esistono strumenti traduttori. E allora qui si può andare in confusione, perché se il traduttore non è fedele, ma non è soprattutto istruito, o comunque fa parte della comunità scientifica, la traduzione può avere degli aspetti che possono essere controversi o comunque di serio dubbio. Perché in realtà di cosa si avvale il metodo scientifico? Il metodo scientifico si avvale di quello che noi possiamo acquisire come dati con i nostri sensi. Questo a livello primordiale. Poi sono state l'ingegno umano, fatto sì che si sviluppino dei marchi ingegni, dei macchinari, pensiamo, non so, al microscopio o al telescopio, o a tutte le altre strumentazioni di cui siamo a disposizione, e questa accumulazione di dati viene poi interpretata, si formulano delle ipotesi. Dall'ipotesi si passa alle teorie. Le teorie scientifiche sono in continua evoluzione e non è che una sorpassa l'altra nel senso di precludere l'altra, diciamo che è un passo avanti rispetto all'altra. E in questo senso va intesa la verità scientifica. come l'elaborazione di dati e di ipotesi di proiezioni future che siano verificabili da altri gruppi scientifici che sono alla stessa altezza per portare avanti questo discorso. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Aver fiducia nel metodo scientifico e soprattutto in questa ricerca continua. per cui se un tempo il sole girava intorno alla terra, adesso la terra gira intorno al sole, però è un punto di vista che un tempo era molto soggettivo, nel senso che uno stando sulla terra vede il sole che gira. Poi elaborando un attimo le nostre conoscenze invece vediamo che... Quindi le teorie sono oggetto di verifiche e portano poi a previsioni che possono essere più o meno dimostrate. Altre verità, ad esempio, noi non ne abbiamo perché se consideriamo ad esempio la verità storica, la verità storica a meno di fatti incontrovertibili in cui nessuno può dubitare come per esempio poi se è stato l'Olocausto dove non è possibile dire che è qualcosa di diverso da quello che è stato. O c'è qualcuno che lo dice. Ma vabbè, ma quello rientra nella folia umana e poi nella successione, nel prosieguo parlerò anche di questa folia umana. Però la storia in genere viene scritta da chi ha vinto e quindi le fonti o comunque le testimonianze spesso sono indirizzate ad hoc. C'è anche, per rimanere anche in tema alto, per esempio basta pensare a quel bellissimo, non so nemmeno si chiamarlo romanzo, quella bellissima prova letteraria di Quino, se non mi sbaglio, che è Esercizi di stile, dove di un fatto incontrovertibile ognuno ha la propria versione, a seconda di... nessuno racconta mai un incidente, mettiamo... Basta vedere le testimonianze di un incidente o di un fatto di cronaca. Nessuno la racconta mai nello stesso modo. Nessuno nello stesso modo, perché la filtra attraverso il suo modo di vedere, di capire le cose. Quindi, dal punto di vista storico, diciamo, non esiste una verità assoluta. Dal punto di vista religioso, adesso qui l'argomento può essere volto, però, dal punto di vista religioso, bisogna dire che è un atto di fede. Allora, mentre negli altri campi è un atto di fiducia nei confronti di quello che costruisce l'uomo, nel campo dell'uomo è un atto di fede, di grazia, di avere la fede, e quindi non c'è niente da dimostrare. Anzi, spesso, ma qui non voglio essere blasfemo alto, ma quando si tenta di dimostrare quello che dice la fede, tutto sommato si va oltre quello che è il nostro limite umano. Per cui non ha bisogno di dimostrazioni. O c'è o non c'è la fede, e quindi non c'è questa necessità. Un'altra verità, ad esempio, qui potrebbero saltare su in tanti, la psicoanalisi. Ah, lì, proprio là, io mi fermo davanti a... C'è questo Nabukov, di cui ho dominato prima Vladimir Nabukov, che è... Autore di Lolita. Autore di Lolita, poi celebre film del 1955, che io non l'ho mai visto. Un bel film. Un bel film. Non è fra quelli di Kubrick che a me piacciono di più, però è ugualmente un bel film, un'interpretazione meravigliosa di James Mason e di Peter Sellers. Però non è di quelli che io rivedo volentieri. Non, non, non. C'è una... Come dire, c'è una patina... quasi sgradevole, ecco, non so perché. La psicoanalisi, cosa diceva Nabukov? Che è come spalmarsi sulle parti intime i miti greci. E quindi è molto pittoresco, nel senso che è indimostrabile, perché è frutto di tutta una serie di congetture di cose spesso riportate al sesso, e quindi non verificabili da altri studiosi. Per cui anche c'è stata una grande diatriba nella scuola di Vienna di psicologia sul valore della psicoanalisi o meno. Altro, invece, è la fantascienza, in cui si dice facciamo finta che. Allora lì non c'è niente da dimostrare, è tutta pure invenzione. Che è un genere che io non amo moltissimo, se no, è sincero. No, non tra i miei, se dovessi fare probabilmente un computo dei film che io possiedo, i DVD, eccetera, forse il genere meno presente è proprio la fantascienza. Allora, a un certo punto c'è qualcuno che ha detto, perché gli ignoranti pensano di aver sempre ragione? Allora, qui non deve essere offensivo. Ignoranti siamo tutti, ad esempio, per reminiscenze classiche, Socrate, quando l'oracolo di Delphi, parliamo di 2500 anni fa, 2400, gli ha detto sei l'uomo più sapiente del mondo, lui gli ha detto so di non sapere. E anche cento anni prima, per andare tutto da un'altra parte del mondo, con un'altra cultura, un'altra origine del pensiero, Confucio, e poi l'ha detto, a chi gli diceva che era sapiente, ha detto sì, sono sapiente perché mi rendo conto dell'estensione della mia ignoranza. I cinesi vengono sempre prima di… Cento anni prima, ma hanno una tradizione di pensiero, insomma, che non è certamente da sottovalutare. Quindi, ignorante è chi esprime delle valutazioni, dei ragionamenti, senza essere a conoscenza profonda del settore, ma soprattutto avendo questa pretesa di poter sparare dei giudizi. Perché già chi è esperto in un settore, difficilmente dice sicuramente così. Può essere, insomma, siamo nel campo della possibilità, ma non che il mio ragionamento, anche quello che faccio adesso, sia un ragionamento da accettare senza discussione. E allora c'è stato due psicologi americani, loro fanno sempre queste ricerche anche un po' strane, Dunning-Kruger, me lo sono scritto perché non me lo ricordavo altrimenti, che su un gruppo di studenti appunto di psicologia ha fatto dei test per vedere qual era il grado di quello che loro chiamano pregiudizio cognitivo di questi studenti. E quindi hanno fatto dei test di logica, di matematica, di umorismo, con delle valutazioni, dei punteggi, io adesso non so bene su cosa si basava esattamente la scala del punteggio, però cosa hanno trovato? Che quelli che erano più ignoranti erano quelli che avevano avuti punteggi inferiori. Cioè quelli che si ritenevano con pregiudizio intellettuale superiore agli altri avevano un punteggio inferiore. E quindi questo pregiudizio cognitivo loro l'hanno chiamato con un nome, cioè con effetto, la mancanza dell'effetto metacognitivo. Cioè quella che può essere la consapevolezza della propria debolezza nell'esprimere delle certezze. E questo mi riporta, perché tutto questo discorso qua poi ha finalizzato alle fake news dei social network, dove io non è che ne perda tempo, però ogni tanto mi casca l'occhio su qualcosa. Ogni tanto su Facebook, però ogni tanto l'avevo. Ogni tanto, e vede i commenti per qualsiasi cosa. A parte quelli più stupidi, diciamo, perché si dibattono su cose che insomma non hanno nessuna importanza, altri esprimono invece i veri e propri giudizi di scientificità o di quello che è in campo medico, ad esempio in campo medico, noi abbiamo oggi la fortuna su internet di avere a disposizione un patrimonio culturale di pubblicazioni, di relazioni, che io non avevo quando studiavo. Io dovevo andare nella biblioteca di medicina, che era in via pietà, sperare che la biblioteca avesse acquisito quei giornali che pubblicavano le notizie scientifiche, certamente non di ieri, ma di qualche mese prima, trovare questi, o gli abstract di questo, fotocopiarli e poi avere a disposizione questo materiale. Oggi invece su internet ho a disposizione un mare di notizie che non sono quelle di fake news, ma che sono quelle degli istituti a livello mondiale che pubblicano le loro ricerche. E' interessante quello che le dice, perché è un discorso che molto spesso faccio anch'io, diciamo fatte le debite proporzioni, perché è ben vero che adesso chi studia ha molto più materiale a disposizione. E' molto piacevole, certo. Io per esempio ricordo che, come lei più o meno, quando facevo la mia test di laurea, per alcuni film che io ho trattato nella mia test di laurea, era il 1989, il VHS si appena affermava, non tutti i film erano editati in VHS, non tutti i film venivano trasmessi in televisione, io molto spesso ho dovuto ricostruire ricostruire determinati film, un po' andando a studiare su libri, eccetera, facendo anche però ricorso alla mia memoria. Insomma, in alcuni casi bisogna andare molto tranquilli. Ed è paradossale, perché noi che avevamo meno materiale a disposizione, eravamo molto più, come dire, attenti, molto più, molto meno disinvolti, di quanto si sia, adesso dove prendi qualunque roba che hai, che ritieni di aver letto, eccetera, e la butti, e la dai per, e la dai per scontata, per scontata e per vera, insomma. Che poi dicevamo prima, finché si tratta di film, se uno mi dice che questo film è diretto da John Ford piuttosto che da Hawa Hawks, boh, vabbè, posso anche non intervenire, perché uno magari non vuole far sempre la parte di chi sa troppo, eccetera. Quando però, insomma, si parla di altri argomenti, la cosa diventa, soprattutto se poi viene propalata, la cosa diventa molto più grave, insomma. E comunque, questo è una gran facilitazione anche di superamento delle barriere, no? La scienza fa superare le barriere, non c'è più quel limite est-ovest, ad esempio, o quella specie di egoismo dal punto di vista intellettuale per cui io so, ma non lo dico agli altri. Ad esempio, c'è la possibilità di vedere interventi in diretta che dal mio punto di vista, ad esempio, sono interessantissimi perché invece di andare nel centro specializzato, spostarmi, trovare nel tempo e anche la disponibilità della struttura ad accogliermi, posso vedere l'intervento in tutti i suoi dettagli, ad esempio. Comunque, per ritornare a questi autori, allora loro questa capacità, questo effetto metacognitivo l'hanno chiamato meta-ignoranza. Meta-ignoranza che è abbastanza diffusa e che ha un riscontro anche in psicologia. Io pur non essendo molto amante della psicologia che tende a inscatolare i vari individui in situazioni così standardizzate, comunque la chiama superiorità illusoria. quindi io ritengo di essere in grado di esprimere un giudizio perché la penso così. Quando può essere grave questo fatto? E' grave quando si hanno i seguaci. Perché quando gruppi di persone che la pensano in questa maniera con la meta-ignoranza sono anche sostenuti da altrettanti gruppi o da persone meta-ignoranti, allora si crea un guaio perché finché lo dico io, lo scrivo e poi un altro mi dice sei fesso, così scritto e l'altro mi dice indifferente cose, ma quando si crea un gruppo, adesso io non voglio parlare di partiti o di cose, per l'amore del cielo, ma quando si crea un gruppo allora il problema da individuale diventa sociale e quindi il danno può essere collettivo. Ma si immagina nel senso anche questi studi immaginano una fine di questa deriva o? Sembra una deriva che ha un'accelerazione che ha un'accelerazione perché comunque nell'universo aumenta l'entropia noi siamo in un periodo storico questo è un mio giudizio e chiaramente questo è discutibile su tutti i punti di vista in cui c'è un grandissimo progresso da tanti punti di vista scientifico, intellettuale anche sociale per noi anche della sanità pur con tutte le sue pecche però di grande ignoranza e di base un'ignoranza pazzesca senza la voglia di imparare di sapere di maleducazione di mal comportamento io ogni volta a me piace viaggiare ogni volta che ritorno per l'amore del cielo a Trieste io non capisco come si possono buttare bottiglie per terra carte le sigarette in quasi tutti i posti dove sono stato nel mondo esistono gli smoking corner che sono nell'ambito della città dei grandi posacene e lì c'è l'area proprio circoscritta e lì vanno tutti a fumare qui è un immondezzaio pazzesco ma questa è inciviltà mi fa venire in mente e chiedo scusa anticipo subito che sto per dire una piuttosto pesante c'è una battuta in un bellissimo film che si intitola La donna della domenica detta da Lina Volonghi che è un'attrice straordinaria che per tutta una serie di cose a un certo punto dice avanza la città avanzano le puntate mi pare che mutatis mutandis siamo siamo lì siamo da quel punto quindi siamo in un periodo storico per me insomma di offuscamento e di tanti valori e la cosa grave o comunque se crede anche curiosa è che questo tipo di atteggiamenti non che marcia parallelo però come dire avviene mettiamola così avviene in un periodo in cui i ritrovati scientifici le scoperte eccetera ti propongono effettivamente delle migliorie notevoli quindi questo è ancora più cioè ci sarebbero tutti gli strumenti ci sarebbe una serie di strutture di infrastrutture tali da veicolare il meglio e invece per un motivo o per l'altro non solo non si veicola il meglio ma proprio si preferisce veicolare il peggio poi c'è anche l'aspetto quello che viene presentato ad esempio ai giovani non è che ce l'ho con la De Filippi o con Costanza però obiettivamente i modelli che sono presentati sono modelli però lì in quel caso specifico c'è un altro discorso perché lì manca il contrasto per esempio da parte della TV di Stato che di fronte a determinate cose dovrebbe proporre altro e invece nella maggior parte dei casi è prona e nemmeno e nemmeno combatte secondo me mettere Alberto Angela contro Maria Di Filippi a sabato sera è una cosa folle che non stanno dicevano in terra perché le due cose non sono paragonabili devi avere l'intelligenza di proporre qualche cosa di alternativo sempre di quel genere ma mi pare che non ci sia la volontà perché adesso la domanda che mi sono posto è Bosazzi perché ha fatto il giornalista e non l'influencer perché sono ipocondriate quando c'è qualcosa dove c'è influence eccetera a me fa paura perché oggi c'è per esempio questa figura che mi sembra incredibile ma io non so chi siano sono quelli che hanno milioni di follower e che pubblicano tutto quello che fanno tutto il giorno ma guadagnano però guadagnano tantissimo e allora qua forse potrei pensarci qui guadagnano forse più che altre le 4 ma comunque ho questo sospetto per dire la verità ma comunque avendo tantissimi follower è quello che presentano io adesso la bottiglia d'acqua ho tolto l'etichetta ma se io avessi un milione di follower tutti dopo berrebbero certo e la ditta mi pagherebbe perché ho risposto la moglie di Fedez esatto adesso capisco esatto un influencer per forza sposarsi con un ricettacolo di tatuaggi io non mi sarei sposato con Fedez a me Fedez è simpatico simpatico sensato mi sembra che sia anche molto più intelligente però se domani avessi un chirurgo un avvocato o così che si presenta in questa maniera mi fiderei meno eh sì la vedo dice la opero io oggi no no aspettiamo un attimo però ci sarà ormai sarà a parte io vengo da una scuola ormai antenata di chirurgia per cui però si arriverà adesso si chiamavano nipoti di Valdoni che era il famoso chirurgo romano che ha fatto scuola e provengo da una scuola quella di Legeri e quindi del professor Legeri quindi per noi non soltanto non si poteva masticare una gomma americana ma bisogna avere sempre la cravatta l'atteggiamento non si poteva girare in zoccoli se non in sala operatoria cioè c'era un rigore anche dal punto di vista della presentazione quindi figuriamoci se andavo con un piercing una cosa finivo immediatamente la mia carriera in quel reparto e dovevo andare non lo so non lo so dove però secondo me si arriverà anche ormai non lo so questo non lo so in campo artistico tutto è permesso per l'amore del cielo uno fa il pittore il cantante però anche là anche là mi raccontava un nostro amico Davide Carabrese diceva io avrei anche voluto farmi un tatuaggio però con il mestiere che faccio non mi posso permettere perché altrimenti per determinati ruoli eccetera dovrebbero coprirlo e diventa una roba un aneddoto sui tatuaggi uno non ci può credere ma in Giappone sono stato a Tokyo lì dovrebbe essere appunto non si può andare alle terme se si ha un tatuaggio io la cosa mi ha sorpreso tantissimo anche perché sì e perché perché i tatuaggi li hanno l'Iakuta quindi i rappresentanti della malavita e quindi non ammettono rappresentanti della malavita in quelle che sono le terme i bagni pubblici poi loro avranno i loro certamente quindi non avranno problemi abbiamo ancora pensiamo un po' le protesi non so se riusciamo a parlarne perché ma diciamo che le nuove protesi cosa hanno di notevole vengono progettate ad hoc cioè per il ginocchio l'anca del paziente facendo prima una proiezione tridimensionale tramite TAC delle caratteristiche anatomiche del sito dove vedevano le ordine impiantate vengono costruite altrove e inviate con le mascherine di taglio cioè quando si mette una protesi uno dice come faccio sapere se la gamba è dritta storta da una parte dall'altra davanti e dietro ci sono delle mascherine e poi le linee di taglio sono già preformate non solo ma con le nuove protesi in titanio non occorre neanche più tagliare l'osso basta diciamo scorzarlo basta togliere il rivestimento cioè anche qui quella chirurgia che molti chiamano sartoriale nel senso per quel paziente esatto per quella ma sa cosa significa questo? che si va in piedi il giorno dopo sì 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 è di fatto cioè è quindi una cosa pazzesca è sensabile ma questo tipo di cioè si va in piedi il giorno dopo io immagino che le generazioni nuove di pazienti come posso dire sappiano conoscano queste cose qua forse è un pochettino più difficile far comprendere questo tipo di cose ai pazienti leggermente più anziani sicuramente forse magari loro non è che sarà in piedi il giorno dopo però come si può fare per fare in modo che questa piccola grande rivoluzione copernicana sia patrimonio anche del sentire delle persone più anziane che magari ancora si fermano con informazione quella che viene predicata ma non sempre viene fatta ad esempio perché molte volte io chiedo a un paziente se gli hanno spiegato cosa è l'intervento cosa sarà il dopo eccetera non sempre non dico che non viene spiegato ma non viene capito cioè e quindi non viene recepito e quindi poi è confusa la cosa quindi la calzatura della protesi che è una cosa eccezionale e soprattutto eccezionale e non avviene in tutti i paesi del mondo questo avviene nell'ambito della nostra sanità pubblica che bisogna anche sottolinearlo e quindi ci sono ospedali ci sono certamente eccellenze come Gaetano Pini come Rizzoli di Bologna come l'istituto ortopedico di Pisa però io conosco questi non è che non voglio nominare quelli di Roma Napoli o Reggio Calabria e quindi questo è un vantaggio notevole mi si dirà i tempi di attesa i tempi di attesa purtroppo le sale operatorie e gli operatori sono quelli e qui bisognerebbe rivoluzionare un attimo quello che è l'impegno dello Stato nel dare fondi alla sanità che non devono essere fondi solo per l'organizzazione della sanità ma per l'operatività della sanità e qui entriamo in un discorso che può essere molto difficile io odio poi i discorsi dei politici in cui dicono dobbiamo fare dobbiamo invece che dobbiamo abbiamo fatto c'è una chiudiamo magari oggi con una barzelletta che mi ricordo di Gino Bramieri su queste cose c'era un operaio che perde una mano e allora si informa e scopre che in una clinica privata possono fargli l'intervento facendogli spendere un sacco di soldi invece qualcuno dice ma guarda c'è anche la parte pubblica dove ti attaccano la mano senza gratis senza problemi eccetera questo fa l'intervento della sottura pubblica muove la mano tutto funziona 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 passa davanti questa clinica dove gli avrebbero chiesto chissà quanti soldi eh guardate qua voi mi chiedevate tutti questi soldi per la mano e via la mano questo era negli anni 70 quindi bisogna specificare anche questo dottor Sacretti grazie per essere molto piacevole averla a averla come ospite dopo la pubblicità parliamo con il direttore del teatro stabile del Frui Venezia Giulia eccoci qua allora benvenuti ben tornato al direttore del teatro stabile del Frui Venezia Giulia Franco Però grazie appunto per essere tornato tornato a trovarci abbiamo parecchi argomenti da affrontare però intanto diciamo che l'operazione quella che avete appena conclusa in Portovecchio che è stato uno spettacolo che ha molto guardato alla memoria dei triestini emigrati negli anni 50 eccetera continuerà per cui chi avesse altro materiale eventualmente da fornirvi può assolutamente continueremo la primavera l'estate gli direi questo spettacolo itinerante al magazzino 26 intanto un modo per scoprire e continuare la città a riappropriarsi di questi spazi e poi cominciare a raccontare una storia che è già stata trattata in libri ma come sempre il teatro ha una forza non dico maggiore ma di un altro coinvolgimento di più persone di un numero maggiore di persone contemporaneamente presenti lì e devo dire che tutte le memorie che ci hanno lettere testimonianze interviste di chi è ritornato o da fuori memorie che ci mandano foto quindi materiale chi ne ha qui se lo porta aumenteremo poi daremo tutto all'associazione Giuliani nel mondo ognuno dà un pezzettino di questa storia mia zia che è stata in Australia per poco tempo per dire la verità abbastanza presto all'inizio degli anni 50 eccetera lei ha una scatola un giorno me l'ha fatta vedere e mi ha fatto molta quasi tenerezza per dire per dire la verità mi ha fatto vedere una scatola dove lei ha conservato tutto il materiale che veniva distribuito a loro prima di arrivare in quindi la piantina la cartina geografica di dove sarebbero stati eccetera delle tessere qualcosa ma lei ha conservato ha conservato molto però ha una sorta di resistenza a parlarne perché l'emozione è l'emozione è parecchia però mi ha fatto molta tenerezza quella scatola per dire la verità perché poi contiene anche le sue emozioni probabilmente quella scatola diciamo che molte persone si sono emozionate anche venendo lì anche chi aveva amici parenti hanno ritrovato un po' quel clima devo dire a tutti noi è fatto perché alla fine in un modo o nell'altro ho un parente stretto ho un parente lontano addirittura una parte di famiglia l'amico che stava vicino di casa l'amico dei figli piccoli sono andati via io posso dire che penso qualsiasi triestino insomma non ha avrà se penso un momento trova sicuramente non ce n'è uno in teatro ma tu questo questo non ce n'è uno che non avesse quello ecco è bello quando il teatro riesce a raccontare queste cose anche senza appunto dar vita ad uno spettacolo come posso dire strutturato secondo i canoni ma anche quando diventa momento di incrocio di appunto di memorie e di elaborazione tra l'altro la fortuna insomma anche molto contenta di aver fatto questo passaggio al magazzino 26 perché è uno spazio che si presta proprio a questi a questo tipo di spettacoli che non hanno anzi vanno contro quasi lo spazio tradizionale farli in quel modo mentre così è proprio un attraversamento di tempi e memorie quindi siamo contenti di proseguirle qualsiasi memoria uno ha se li porti in teatro siamo felici allora noi tra dopo tra una mezz'oretta circa parleremo della settima edizione di convivere con di convivere con Auschwitz tra le cose che il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia da parecchio tempo mette in piedi in occasione poi della giornata della memoria c'è anche questo questo coinvolgimento la memoria la memoria e la scelta che coinvolge anche le scuole in maniera molto più come dire partecipata di quanto non si possa di quanto non si possa pensare questo sarà il quarto anno che lo facciamo con il liceo di Trieste italiani e sloveno diciamo che le tre edizioni precedenti grazie a Paola Pini che ha sempre dato fuori del materiale continuo e proposte con nuove c'era anche la capilla underground spesso la mediateca veramente un grande coinvolgimento nella parte della città diciamo che dopo quest'ultima edizione ho detto ma perché non facciamo anche una cosa diversa cioè finora i lavori dei ragazzi erano fatti in Sala Bartoli facciamo un altro passaggio portiamoli alla risiera quindi abbiamo quest'anno però diviso un po' i lavori facciamo addirittura due da una parte ci sarà la prossima settimana le repliche della storia di un uomo banale parafrasando il libro di Anna Arendt su Eichmann e la storia di Stangel altro nazista che è molto legato anche a queste zone l'intervista di Gitta Sereni tratto dal libro di Gitta Sereni Esatto In quelle tenebre Paolo Pini ha scritto liberamente prendendo da quel libro un dialogo che i due attori della compagnia Romina Colbasso e Andrea Germani interpreteranno racconteranno l'interpretazione perché non si può fare quei personaggi credo soprattutto a quell'età per uno spettacolo molto molto forte in Sala Bartoli una bellissima ricostruzione di questa serie di interviste veramente agghiaccianti dei Gitta Sereni ma anche molto come dire una serie di lunghe interviste fa vedere anche un altro lato proprio questa assurdità quasi oltre alla banalità e questa è una parte della memoria quest'anno in memoria della scelta abbiamo lasciato gli attori in barto e li abbiamo portato porteremo i ragazzi in in Risiera a fare che cosa l'ideazione che ha fatto Paola Pini è stato dei due diciamo i due responsabili della Risiera Globoschnik e il suo superiore Rainer diciamo li faremo rivivere tramite i ragazzi attraverso le voci dei ragazzi però con una specie di Virgilio che ci condurrà in mezzo che il personaggio di Diego Danriquez quindi col materiale trovato da lui altro materiale di interviste di libri di studi sui due personaggi e anche testimonianze vittime e carnefici presi da altri processi sarà un altro spettacolo itinerante che partirà in una sala passerà all'altra passerà alla terza spettacolo un po' diciamo un evento è un modo anche per far entrare in un clima quello che può essere della Risiera noi abbiamo fatto l'altro anno alla fine di questo percorso nel giorno proprio in memoria il 27 l'altro anno degli interventi cantati anche di presenza alla fine delle manifestazioni ma qua ho detto proviamo a staccare domenica 26 ci sarà il pomeriggio alle 4 questa ricostruzione di chi di chi ha materialmente fatto quello che ha fatto i responsabili principali facendoli rivivere attraverso le voci questi ragazzi con questo personaggio del riquez che è molto legato come sappiamo a quel momento storico quindi una doppia presenza fa parte diciamo sono le memorie che raccontiamo a magazzino 26 ci sono i pensieri più lontani che portiamo sempre a Sarajevo nell'altro museo la riserva un museo un modo anche per come dire per dispiegarsi l'attività culturale del teatro nel territorio tornando al teatro diciamo al teatro stabile mi verrebbe da dire nel proprio senso che poi quello che poi quello è la prossima settimana apro da insomma uno dei personaggi più straordinari del teatro dalle sfaccettature più varie che Falstaff Falstaff è il suo servo che Falstaff sarà questo? hai visto? sai sai no non l'ho visto però diciamo c'è ormai una lunga consuetudine un piccolo segreto con Brancerosi perché lo più miserabile Franco continua a chiamare a parlare e raccontarmi di questo però dai racconti quello sarà lo spettacolo non lo so è un'idea molto bella quella scritta da Nicola Fano e chi mi ha preceduto Antonio Calenda che è molto legato a Branceroli e a Massimo Refranco che ha lavorato qua anche con lui ha messo insieme come sappiamo Falstaff non è il titolo di un nessuna opera schispiriana ha però in due opere principali più importanti c'è questo personaggio all'inizio pensavo fosse sarà Falstaff con Enrico le due versioni Enrico non ancora re e poi Enrico re invece no diciamo Falstaff e Cardini improvvisamente lui diventa il protagonista e il servo è quello che in fondo è lui quindi è un gioco quasi al contrario improvvisamente Falstaff non è la spalla gigantesca diventa quello che è un protagonista e tra l'altro lo scontro di questi due attori come Massimo Refrancovice e Franco Branciaroli è insomma una gioia vederli sulla scena a contendersi il ruolo se i pensieri il modo di vivere il senso della vita in Falstaff sono più forti una volta che diventa lui il protagonista se cambia di ruolo o se rimane l'eterno quindi c'è questo gioco che ama molto Branciaroli di spostarsi assolutamente di spostarsi all'interno di un ruolo tra l'altro Falstaff dice una delle battute secondo me più belle dell'intera storia del teatro che deve essere quando parla credo sia Enrico IV o Enrico Quinto credo sia Enrico Quinto non Enrico Mari no in quell'altro in quell'altro quindi forse Enrico IV allora insomma indifferente quando dice parlando con il giudice Swallow ricordando quando noi abbiamo inteso le campane di mezzanotte dice We both hear the chimes of midnight che tra l'altro è il titolo del film il titolo originale del film di Orson Welles su Falstaff che è un capolavoro assoluto secondo me e anche secondo Maurizio Lorber ma questo è un altro è un altro discorso poi intanto adesso voi generosamente cedete la sala grande al Trieste Film Festival però c'è chiedo scusa c'è programmazione in sala Bartoli sì in sala Bartoli continua lo spettacolo che è debuttato l'altro giorno il martedì di Francesco Mandelli interpretato Francesco Mandelli per regia di un giovane regista molto diciamo molto seguito ultimamente Leonardo Lidi un testo di Will Eno Will Eno è un drammaturgo americano tra i più affascinanti dell'ultima generazione tempo fa Tom Paine è stato visto qua con l'interpretazione di uno degli attori aiutami più bravi della come si chiama protagonista del del giovane del giovane del giovane favoloso di eh sì bene siamo messi bene questo pomeriggio Elio Germano esatto di Elio Germano e il seguito di questo Tom Paine Will Eno ho visto lo spettacolo Mandelli mi ha colpito era una delle voci di MTV il non giovane il non giovane il non giovane non giovane anche attore di cinema si 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 no 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 si si è cimentato in questa operazione la storia lui è su una sedia potremmo dire uno dei temi di adesso sull'emigrazione ma non è un emigrante è uno che non sa bene in aeroporto dove deve andare perché è lì per qual motivo è lì ma è un signore è una metafora anche molto ehm devo dire che colpisce sono andato non dico timoroso ma curioso curioso e sono rimasto veramente affascinato dalla forza scenica che ha siamo lì l'ho visto appunto a Milano l'altro giorno quando è entrato dopo non sono riuscito a vedere la prima alla fine dice Sara Bartoli è il posto più bello è perfetto per questo spettacolo sono felice di farlo qua c'è il pubblico è la prima un momento così dice no no non vedo l'ora di continuare e ogni sera alla fine anche l'altra sera prima di cominciare c'è un pubblico bellissimo in questa città non sono mai stato così bene in un palco scelto ora sentirsi questo ogni tanto eh dicono anche gli altri non a me ma anche le altre responsabili del teatro questo piacere no immagino di recitare Rossetti la sala principale ma anche la Bartoli che poi ha dei grandi estimatori poi subito dopo sempre in Sara Bartoli arriva un regista e un attore che a me piace che a me piace moltissimo che è Iudi Ferrini che fu protagonista di un'edizione di Rusteghi assolutamente meravigliosa che l'hanno visto Ilaria era terrorizzata perché io sono essendo io poi un conservatore ed essendo io legatissimo ai Rusteghi dice questa versione dei Rusteghi dove gli uomini interpretano anche i personaggi femminili a te non piacerà sicuramente invece secondo me applicando la teoria che a me piace che tu puoi come dire distruggere un testo ma poi me lo devi riconsegnare con i rapporti intatti fra i personaggi lavorando in questo in questo genere forse dopo quella dello stabile di Genova forse la versione dei Rusteghi che a me è piaciuta di più di una bellezza di una intelligenza e di un rispetto paradossalmente incredibile mi piace molto mi piace molto anche sta voce un po' cavernosa sì sì anche un po' trasformato penso da quel tempo smaggrito è diverso è venuto è bello quando uno viene a proporre perché sai alla fine noi prendiamo non sulla carta ma sulle telefonate su quello che legge sulle discussioni che fai ma l'attore che viene prende l'occasione per venire portarti proprio dice voglio venire qua non abbiamo neanche tempo certe volte di andare noi in giro ne abbiamo parlato allora lui porta lucido Raffaele Spregelbrud uno dei più grandi forse importante drammaturgo sull'americano attualmente io ho visto altre commedie sue una diretta dal Mitefest qualche anno fa da Ronconi ne fece questa versione devo dire che con grande rispetto per l'arte di Ronconi penso che un attore un regista come Yuri Ferrini riesce a tirare fuori la commedia perché Spregelbrud è un commediante quindi c'è una nella cattiveria di uno scontro familiare di avere la capacità di fare qualche volta anche con come dire quel riso divertente ma anche feroce lui ha una leggerezza e la capacità di portare questa leggerezza nonostante le descrizioni che facevi tu del suo del suo essere in scena questa voce cavernosa per cui appena ho saputo che lui faceva lucido quando è venuto qua dicevo vorrei discutere un po' e dice guarda che ho già deciso lo prendiamo ma sì sì perché ciò che sarà un piacere vederlo un po' sì ho visto le belle critiche ma questo viene dopo ecco viene dopo ho detto poi che il dal 21 dunque allora lucido è in scena dal 28 al quindi abbastanza in là effettivamente e poi c'è anche c'è già attesa per Notre Dame de Paris dal 29 di dal 29 di è un grande successo anche questo la cosa più bella che mi ha colpito è Notre Dame nonostante questa solito discorso è un grande musical chi può amare è cociante e di me non va detto che è il più perfetto musico costruito da un cantante da un scrittore da un musicista italiano la prima cosa che mi ha colpito quando sono nella prima edizione la reazione dei tecnici che erano fieri di aver portato qua i tecnici nostri il teatro il Notre Dame che fino a quel momento non è mai stato fatto negli spazi aperti non teatrali e salire sopra nella quella che è la graticcia vedere tutti i motori come riescono devo dire che sono proprio contro i muri di qua di là di su di giù usano il palcoscenico i rossetti al massimo delle sue possibilità però questa è la forza che ha quel spazio scenico lì per cui attenderemo dopo il Falstaff Notre Dame con grande con grande gioia curiosamente due personaggi larg come si dice come dicono gli inglesi larg and then life beh sì problematici per ragioni diverse per dire la verità o invece volevo chiederti una cosa che mi è che mi incuriosisce parecchio e devo dire la verità è più un discorso che molto spesso si fa con alcune opere liriche per esempio ci sono delle opere liriche che per tutta una serie di ragioni le più varie magari mancano dai palcoscenici di una città per parecchio tempo ma non opere liriche che ne so di nicchia per esempio si sa che la traviata mancava dalla scala da parecchio tempo perché avevano tutti quanti paura di confrontarsi con lo spettacolo Visconti Callas eccetera l'altro ieri e devo dire la verità bisogna ringraziare anche Sabrina Morena per con la con lo spettacolo con la rassegna Spaisati allo stabile sloveno è andato in scena Bent che è questo dramma americano del del 79 e riflettevo sul fatto io ho un po' guardato in giro che questo spettacolo che magari forse è più noto agli addetti ai lavori che non al grande pubblico italiano eccetera però mi incuriosiva molto che non fosse mai passato a Trieste adesso per l'amor di Dio può essere anche un caso ma c'è anche nel mondo della prosa perché succede per esempio che delle volte alcuni spettacoli ci mettano parecchio a tornare anche di quelli rodati che si possono fare non quelli la mia solita ci sono ragioni anche molto 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 immagino anche più che altro di casualità credo allora diciamo una cosa è toccato un punto quando tre anni fa Umberto Orsini riprese Copenagher dice allora Umberto è un altro che ha questa capacità questa voglia di raccontare di portare le cose e dico guarda Umberto non posso prendere questa giovane perché? perché c'è una vecchia delibere un CDA ma non nato in modo astratto ma concreto che non mi ricordo in che occasione uno spettacolo era stato fatto un'edizione ritornava dopo non molti anni e il pubblico tradizionale cioè la fascia come dire lo gioccolo duro ancora di quel pubblico che per fortuna c'è e diceva no l'ho già visto quel testo no non torno a vederlo e allora questo vuol dire molto pragmaticamente tira via una fetta questo può essere uno l'altra cosa guarda è giusto fin là questo che stai dicendo direi che tocca molto certi testi più contemporane più vicini tant'è che invece per i testi classici io credo ci sia un problema quasi un problema contrario anche sì anche troppo in questi ultimi anni abbiamo dovuto questo prossimo anno posso dire saranno due baccanti in giro c'è stato cos'era due anni fa c'era uno sconto tra tre Shakespeare ma c'è anche due tempeste quest'anno due tempeste tra l'anno uno ha detto ah non prendi la mia no mi ha già preso l'altra io su questo non so riguarda molto l'autore più contemporanea che adesso parlavo sai questi sono giorni in cui cominciamo a rifinire le stagioni qualcuno più avanti qualcuno più indietro e vedo anche i colleghi che cominciano ad avere dei dubbi proprio ieri in un grosso teatro non facciamo i nomi è grosso come il nostro anzi diciamo una città che ha un uno maggiore perché ogni tanto essere più grossi vuol dire avere un bacino d'utenza maggiore punto e basta e che dicevano forse abbiamo fatto troppe cose contemporanee e al fine torniamo con i classici io penso che si facciano non poco in Italia di autori classici anzi dipende come ne fai sì e poi devi anche vedere a quanto estendi il termine classico che cos'è che cos'è che cos'è diciamo il classico teatrale penso che dove finisce il classico teatrale c'è Pirandello dai sì diciamo che per un pubblico potrebbe anche essere fino a centri autori americani tipo Tennessee Williams Arthur Miller assolutamente Sguardo dal ponte Morti come si viaggiato ecco diciamo questi sono un po' dopo di che c'è qualche testo classico che adesso lasciamolo così in ambiguità che uno pensa che sia un classico contemporaneo e scopri che una generazione un po' più avanti delle tue non lo conosco è curioso il tema toglimi ancora una curiosità e riguarda un mio autore che io non riesco a vedere a Trieste da parecchio tempo in una versione che non si è ridotta e quindi non riesco a capire se è ancora valido o meno che Tennessee Williams perché è venuta la rosa tatuata ma non è ma la rosa tatuata è come dire tratto dalla sceneggiatura del film quindi non mi serve per un discorso teatrale quando venne la signora cardinale no quello era molto prima il tram che si chiama desiderio era parecchio tempo fa o quantomeno io non lo vedo non vedo Tennessee Williams un Tennessee Williams che non sia appunto tagliato come era zoo di vetro con la cardinale da parecchio tempo e non e non riesco a capire se è ancora rappresentabile ho i miei dubbi per dire la verità allora forse non è venuto a Trieste un'edizione bella di la tele del tram regge Elio dei Capitani con la melato con la melato forse forse non è venuta perché non è venuta è una bella edizione reggeva ancora bene adesso c'è in giro una versione fatta l'altro anno di zoo di vetro però da teatro di Milano forse i parenti assieme il LAC di Lugano diciamo molto coraggiosa eccolo forse vorrei vederla per capire se in realtà regge una trascrizione scenica molto osè non nel senso di osè osè rispetto alla drammaturgia eccolo molto coraggiosa le foto che ho visto diciamo a proposito di film credo anch'io che certi film certe sceneggiature come improvvisamente è stata escorsa magari chissà potrebbero avere quella forza è improvvisamente è stata escorsa perché è uno dei due temi e questi li abbiamo diversi in questi anni abbiamo visto l'attenzione di un certo pubblico teatrale ma anche molto pubblico che non è abituato al teatro quando ci sono due temi o i testi che partono dalle opere narrative noi abbiamo fatto ormai saremo quest'anno supereremo i 200 repiche più miserabili o da sceneggiature c'è stato la classe operaria il paradiso le prenome ci sono molti quindi forse le sceneggiature di un autore così possono reggere è improvvisamente è stato escorso un film straordinario Franco grazie per essere stato con noi tanti grazie a voi buon lavoro a tutto lo stabile del Friuli Venezia Giulia e dopo la pubblicità parliamo invece della settima edizione di Convivere con Auschwitz 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 di Convivere con Auschwitz